musica Sì, sembra una palla di terra con un appoggio di vento. Perché no? Perché stai picchiando un volpino? Perché picchi un volpino? No, io non ce l'ho più i volpini. Volpino, per favore, gli puoi fare il pulo. Guarda, ti svolto la giornata con quel volpino, se ti fai la partatura, tu vuoi usare i numeri di lancio a piano. Guarda, ti svolto la giornata con quel volpino? 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 Grazie a tutti 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 Buongiorno a tutti Grazie 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 a tutti E poi Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti Mario Grazie a tutti 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 E puoi Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti 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 Ehm Grazie a tutti 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 E' E oggi E mentre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti